Buonasera a voi gentili telespettatori e grazie per essere qui con noi in questo approfondimento. Per l'appuntamento di questa sera parleremo di edilizia residenziale pubblica, quella che un tempo venivano definite come case popolari. In Piemonte e in particolare sul territorio di Torino e provincia c'è un grande patrimonio di edilizia residenziale pubblica che viene gestito ovviamente dai comuni, ma che per quanto riguarda i comuni si occupano appunto delle assegnazioni e poi il patrimonio viene invece gestito da quello che è un ente che conosciamo bene, ATC. Vado proprio a presentarvi l'ospite che mi ha raggiunto in studio, che rappresenta proprio questo ente, perché ringrazio Emilio Bolla, presidente di ATC Piemonte Centrale. Buonasera a lei, grazie a voi. Allora, dicevamo un grande patrimonio perché fortunatamente di case a disposizione dei piemontesi e dei torinesi, in questo caso, ce ne sono tante, ma è tanta anche la richiesta, l'esigenza. Certo, ma noi gestiamo come ATC Piemonte Centrale circa 30.000 alloggi di edilizia sociale sull'intero territorio dell'ex provincia di Torino, quindi Torino, città metropolitana. Ed è un patrimonio importante dove vivono 60.000 persone. Quindi con delle problematiche notevoli, lei nell'introduzione l'ha fatto capire, diciamo, di difficile soluzione spesso. È un patrimonio che ha una certa età, diciamo così, e quindi questo richiede assolutamente ormai degli investimenti. A questo si aggiunge la difficoltà del momento, che è un momento piuttosto lungo, che è iniziato con la pandemia, ma forse già prima, con le difficoltà economiche degli ultimi anni, soprattutto delle famiglie più povere, nell'affrontare le spese quotidiane. Quindi anche il nostro ente di riflesso presenta delle criticità che poi sono emerse con l'approvazione anche dell'ultimo bilancio. Quindi da un lato c'è la necessità di grossi investimenti che stiamo prevedendo, ed è paradossale che di fronte a questa occasione che abbiamo di rinnovare il nostro patrimonio, ci sia comunque la complicazione nel gestire il quotidiano. Certo, quindi diciamo che sono tanti anche gli edifici che adesso, per esempio, verranno rinnovati grazie ai bonus, il 110, quindi lo sconto in fattura, quello che viene definito lo sconto in fattura. Però poi nel gestire il quotidiano c'è difficoltà. Immagino anche alle difficoltà che riguardano, per esempio, le spese per il riscaldamento. Sappiamo che sono aumentate le bollette, quindi anche per le case ATC ovviamente questo è successo. Ed è aumentata anche la difficoltà, spesso, delle famiglie a far fronte a queste spese. Certo, uno degli aspetti di criticità molto forte dell'anno in corso, ma direi già anche della fine dell'anno precedente, è proprio il rincaro delle spese energetiche, che incidono moltissimo sul bilancio familiare e sul bilancio di ATC, che essendo ente gestore si trova anche ad anticipare le spese che poi devono essere recuperate attraverso la bollettazione ai nostri inquilini. Quindi noi siamo di fronte a dei rincari del 100%, ma nel caso del terreno di riscaldamento anche 130% delle spese solo di riscaldamento. Quindi di fronte a questo ATC ha preso alcuni provvedimenti già gestionali per cercare di attutire l'impatto, ma è chiaro che è necessario un intervento molto più ad alto livello rispetto al problema. Per esempio avete anche abbassato un po' il riscaldamento, nel senso l'orario di erogazione. Certamente, questo recentemente, poi è chiaro che ci sono anche delle temperature ancora altalenanti, ma i primi provvedimenti sono stati quelli di ridurre un pochettino le temperature di mandata dei riscaldamenti e anche gli orari di apertura. Questo può aiutare in questa fase, ma sicuramente sarà necessario ancora studiare gli altri provvedimenti più importanti poi per il prossimo autunno. Gli investimenti che si stanno facendo ci aiuteranno anche a contenere le spese energetiche, perché è chiaro, utilizzando quelle che sono le forme attuali di investimento sul 110% con l'efficientamento energetico degli edifici, si aiuteranno le famiglie naturalmente a contenere la spesa. Lei pensi che un condominio efficientato rispetto a uno non efficientato vuol dire parlare di una riduzione di circa il 50%, forse di più, delle spese energetiche. Certo. Poi dobbiamo dire anche che ovviamente con l'aumentare delle problematiche riguardanti il budget diciamo familiare degli inquilini delle case ATC, diminuisce anche la retta che devono pagare all'ATC per vivere all'interno delle case. Certo. Sì, il canone d'affitto è relativamente basso, ma direi abbastanza basso rispetto agli altri naturalmente. Oggi noi abbiamo una media dei canoni d'affitto di 93 euro, però in riduzione rispetto alle ultime assegnazioni arriviamo circa al 70 euro mensili, proprio per quello che diceva lei, in relazione alle possibilità economiche dei nuclei che sono assegnatari delle case popolari. Questo che cosa però vuol dire? Si trasmette in una difficoltà enorme di ATC che utilizza i canoni per la gestione ordinaria, manutenzioni, aree verdi, sistemazioni, eccetera, eccetera, nel far fronte alla quotidianità. Quindi il paradosso che le dicevo di fronte alla opzione che abbiamo adesso per fortuna di grossi investimenti sul patrimonio, abbiamo dall'altra la difficoltà della gestione ordinaria, quindi sulle piccole manutenzioni e sugli altri interventi, sui servizi che noi dobbiamo fornire, che vogliamo fornire agli inquilini. Certo. Allora, visto che parliamo di difficoltà in alcuni casi, sempre in aumento purtroppo, a onorare, diciamo, quelli che sono i pagamenti, no? Vorrei anche far riferimento con il servizio che adesso manderemo in onda al fondo sociale che aiuta un po', diciamo, gli inquilini delle case popolari a quando si trovano in una situazione che viene definita di morosità incolpevole. Ecco, vediamo di che cosa si tratta nel servizio. Si definiscono morosi incolpevoli perché il loro stato di inadempienza è dettato da difficoltà economiche indipendenti dalla loro volontà e dunque incolmabili se non con un aiuto esterno. A questo serve il fondo sociale messo a disposizione dalla Regione Piemonte per tutti gli inquilini delle case ATC che dimostrino di non poter pagare le quote di affitto perché impossibilitati. Sono oltre 5.000 per una copertura economica stimata di 7,5 milioni i potenziali eventi diritto all'accesso al fondo sociale morosità incolpevole. Il numero che ci si attende è in lieve incremento rispetto alle 5.480 domande presentate lo scorso anno su un totale di circa 26.000 a fronte di un leggero aumento della morosità complessiva sulle bollette salita al 29%. La raccolta delle domande proseguirà fino al 30 aprile. Per richiedere l'accesso al fondo oltre a essere regolari assegnatari di una casa ATC occorre avere un indicatore ISEE 2022 non superiore a 6.360,36 euro e aver pagato entro il 30 aprile la quota minima sul totale delle bollette del 2021 ovvero una somma pari al 14% del reddito e non inferiore a 480 euro anche in caso di reddito zero. Quest'anno gli inquilini che sono iscritti ai sindacati su NIA, SICET, UNIAT e Unione Inquilini possono presentare la domanda anche rivolgendosi alla sede del proprio sindacato. Mentre grazie alla collaborazione con la città di Torino le persone più in difficoltà assistite dai servizi sociali potranno delegare un operatore alla presentazione. L'aumento della morosità generale, osserva il presidente dell'ATC del Piemonte Centrale Emilio Bolla, è stato di pochi punti percentuali ma certamente questi due anni di pandemia non sono stati facili per coloro che si trovano già in una situazione di fragilità economica. Stiamo attivando tutte le collaborazioni e facilitazioni possibili ma senza domanda non è possibile ottenerlo. L'invito a chi pensa di avere diritto è dunque di presentare la domanda. Chi otterrà il contributo vedrà così coperta l'amorosità maturata sulle bollette ATC dell'anno 2021. Quindi questo è un sistema per pagare quello dell'anno scorso, ciò che non è stato pagato nell'anno scorso. Il fondo sociale attutisce l'impatto della morosità, logicamente parliamo di morosi incolpevoli, cioè quelle persone che dimostrano di effettivamente non poter pagare il dovuto sia riguardo i canoni che riguardo le spese. Quindi la Regione interviene attraverso una posta di bilancio che è già stata indicata e che valuteremo quest'anno, valuterà la Regione naturalmente, probabilmente un incremento dovuto a quello che si diceva, che avete detto bene nel servizio, cioè al fatto che le criticità comunque sono considerate in aumento, sia per le difficoltà ancora degli inquilini, ma anche e soprattutto per l'aumento delle spese energetiche che incidono naturalmente poi sulla disponibilità del fondo. Quindi è un invito che facciamo naturalmente a tutte le persone che pensano di averne diritto, la scadenza attuale è del 30 di aprile per la presentazione delle domande, adesso stiamo valutando con la Regione l'eventualità di un'ulteriore proroga, però è necessario che tutte le persone insomma contattino l'ATC, l'ATC in parte sta già programmando da tempo degli incontri per compilare le domande. Ringrazio, ne approfitto per ringraziare i sindacati degli inquilini che ci danno una mano, una grossa mano e i comuni, proprio laddove facciamo anche recapito per venire incontro alle esigenze e a volte alle difficoltà che hanno i nostri inquilini di muoversi e quindi di recarsi presso la sede. Tra l'altro abbiamo anche in questi giorni un'attività legata al portale che ci aiuterà anche a venire incontro alle esigenze dei cittadini senza farli muovere da casa. Non varrà per tutti perché le tecnologie non sono ancora nella disponibilità di tutti, ma quello che non farà mancare l'ATC è di essere presenti sul territorio quando c'è bisogno con dei recapiti specifici e con l'aiuto dei comitati inquilini che fanno un grandissimo lavoro e ci aiutano proprio a venire incontro alle esigenze dei cittadini anche con le nostre carenze che abbiamo, a volte non riusciamo ad arrivare dappertutto e a volte arriviamo con dei ritardi. Questo è un po' il lavoro che stiamo facendo anche in questi anni provare a migliorare noi stessi con le difficoltà che vi dicevo relative a delle disponibilità soprattutto sulla spesa corrente molto limitate. Quindi se lei dovesse spiegare a chi non conosce la materia in un bilancio come quello di un ente come ATC, quanto contano le varie voci? Per esempio quella del riscaldamento delle spese energetiche? Spese energetiche noi spendevamo 15 milioni all'anno, con gli aumenti che ci saranno arriveremmo all'incirca verso 28 milioni di spese, quindi una differenza notevolissima. Lei conti che le spese correnti in un ente come il nostro incidono circa il 75%, cioè le spese dovute, personale e quindi il margine di operatività è veramente relativo. Quest'anno il nostro bilancio che pareggia su 320 milioni circa conta una cifra importante di investimenti e sono gli investimenti legati al PNC, al piano nazionale complementare con il riparto che ha fatto la Regione che ci permetterà di realizzare alcuni interventi importanti sui quartieri importanti della città di Torino e di altri comuni e poi è chiaro che inciderà anche molto sull'investimento, quello che faremo sull'utilizzo dei 110 o dei PINQA che sono quei progetti di qualificazione urbana che si vedono impegnati con la città di Torino e altre città, anche lì su alcuni quartieri che speriamo di far ritornare all'antico splendore, perché sono dei quartieri tra l'altro che risalgono all'inizio del secolo scorso, un paio di quartieri sono Corso Racconigi e il sedicesimo quartiere Via Sospello e Corso Grosseto che risalgono l'uno all'inizio del secolo scorso, 1910. Con degli edifici bellissimi, devo dire. Sì, Corso Racconigi, centro di Torino, dove abbiamo un grandissimo impegno legato a diverse forme di finanziamento, ma noi abbiamo lottato perché questo quartiere, dopo le disgrazie diciamo così che abbiamo avuto nel 2018, dove abbiamo riscontrato dei problemi statici importanti, attraverso risorse diverse, il bonus 110, PINQA e Fondi Cipe, riusciremo a rimetterlo a nuovo. I lavori inizieranno a giugno, poi magari avremo occasione di presentarli anche ai vostri telespettatori, se ce ne sarà occasione e si sta lavorando sulla progettazione del sedicesimo quartiere che è un quartiere che risale al 1928-1930, pensi che in questo quartiere c'era anche la piscina, la cappella, la scuola, tante cose che noi vorremmo riprendere, non dico la piscina nel nostro caso, ma riportare comunque della vitalità in un quartiere con grandi difficoltà. Allora Corso Racconigi l'abbiamo dovuto svuotare in pochissimo tempo, ci sono ancora 50 proprietari che io ringrazio anche per la disponibilità e la pazienza che hanno avuto e la collaborazione che ci stanno dando proprio per la ristrutturazione definitiva, però li riusciremo a riprendere un quartiere che vale veramente la pena di riprendere e io dico con forza ancora dedicato all'edilizia sociale. Certo, devo dire che ATC comunque da sempre con l'aiuto di tante associazioni, di tanti enti, del territorio, lavora proprio per questo mix culturale, per dare occasioni di unione, di incontro, di condivisione all'interno dei quartieri in cui si trovano queste case, le case di edilizia residenziale pubblica. Sono tante le iniziative che vengono portate avanti, di socialità, di incontro. E' anche bella questa responsabilità che date direttamente agli inquilini, far sentire loro parte di qualcosa e quindi che possano in qualche modo curare ciò che gli viene dato con attenzione e con senso di responsabilità. Questo è importantissimo, credo. Abbiamo bisogno anche in alcuni quartieri di riprendere un po' questa riorganizzazione anche dei comitati degli inquilini. E' necessario quello che richiamava lei, un mix sociale all'interno dei quartieri che consenta di vivere meglio le persone che abitano lì. E' chiaro che negli ultimi anni c'è stato un cambiamento molto forte di origine e di identità, chiamiamolo così, degli inquilini che vivono nelle case popolari. Però ancora oggi viviamo degli esempi bellissimi. Io sono stato l'altra settimana in Corso Grosseto a incontrare le persone del comitato inquilini lì, dove ho visto una cura particolare degli alloggi che vengono assegnati. Devo dire che purtroppo vedo in contrapposizione anche delle realtà di alloggi che ci ritornano indietro con problemi enormi di manutenzione. Allora io vorrei che si riprendesse un po' la cultura del bene comune, cioè di un bene che è di tutti e che viene dato in uso ad una persona che ha bisogno. Bisogna anche voler bene al posto dove si abita, dove si vive, e quindi anche un appello che faccio, prima faccio un ringraziamento a tutti quegli inquilini che tengono bene le case, che tengono veramente bene le case. E mi appello agli altri perché sappiano che è un bene comune e sono fondi che sono stati stanziati per l'edilizia sociale, per le case popolari, sono le tasse che pagano i cittadini italiani. E allora un buon senso civico ci aiuta sia per quello che per le aree pubbliche. Poi abbiamo dei fenomeni che vanno contrastati, che stiamo cercando un po' con le altre istituzioni di contrastare, che un po' creano difficoltà proprio agli inquilini, che sono le occupazioni abusive. Sì, infatti, facciamo un cenno veloce perché siamo alla fine di questo nostro approfondimento, però so che state facendo un lavoro importante. Sì, stiamo facendo un lavoro, noi contiamo però che ci sia ancora un... Adesso abbiamo avuto un incontro con il nuovo prefetto, che devo ringraziarlo perché si è reso molto disponibile, ha avuto un'esperienza importante anche lui di conoscenza della gestione delle case popolari, quindi sa di cosa parliamo. e contiamo però anche sull'aiuto delle altre istituzioni perché si affronti in modo concreto il fenomeno dell'abusivismo che va combattuto, che ha dei costi sociali, che ha dei costi economici e che non può essere accettato dalle persone che vogliono vivere tranquillamente anche se con difficoltà nei quartieri che abitano da sempre. Certo, ovviamente lo ricordiamo perché le case, l'edilizia residenziale pubblica è un qualcosa che va in aiuto a chi ha magari più difficoltà, ovviamente è un servizio però della collettività, è un patrimonio che tutti noi dobbiamo in qualche modo tutelare e perché è un patrimonio di tutti. Quindi davvero ci uniamo anche noi a questo appello che ha fatto anche, ma so che davvero gli abitanti delle case, soprattutto in alcuni quartieri, noi abbiamo avuto modo anche di conoscerli, prendono a cuore questo patrimonio e davvero ne fanno buon uso, lo fanno, anzi mettono più a frutto, devo dire, le potenzialità di questi luoghi di incontro e di condivisione. Io la ringrazio anche per averci dato modo di riflettere un po' su questa realtà, ringrazio davvero Emilio Bolla, presidente di ATC Piemonte Centrale, grazie per essere stato con me oggi. Grazie a voi. E ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito da casa, come sempre alla prossima puntata di Prima News Focus. Arrivederci.